I-ha ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus Eccoci qua con Tembo, abbiamo superato il primo livello, abbiamo superato anche il secondo livello Li abbiamo praticamente salvati tutti, e adesso ci accendiamo a superare il terzo livello Cercando anche questa volta di salvare tutti quanti Quindi diamoci dentro Dai forza elefantino, scatina la tua ira Che vuole questo? Ma spostati immediatamente, fammi spazio Ops, qui abbiamo una cosa nuova, ok, no, però le noccioline a noi piacciono e quindi ce le mangiamo tutte Aspetta, ok, perfetto Ok, quindi tu sei il primo che dobbiamo far fuori Eccoti qua, ok Ok, perfetto, ecco il primo che l'abbiamo salvato Attenzione a queste cose, perché queste sono cattive Prima però, se non mi sbaglio, ho visto alla mia sinistra Che c'era una bella, attenzione, attenzione, una bella nocciolina Schiacciato, quasi, ok, perfetto La mia vista non mi inganna Seppure si abbassa Ok, aspetta che ti schiaccio Ops, perfetto Andiamo avanti Mi sa che dobbiamo andare là sopra Attenzione che mi viene mal di testa Ok Che culo Dai Tac Tac Dai che c'è Dai Ce la facciamo Ah Dai Non mollare Eccolo qua Certo Anche tu sei libero Ok Perfetto Rotto tutto E giù Per il tubo Che c'è qua Palla Buttiamola via Dai Ok Ops Questo è un missile A rallentatore Ma è un missile Ok Attenzione Andiamo di qua Che c'era Non c'è la punizione Ah no Ops Che frenatuna Forza ragazzi Al galoppo Eeeh Mani indietro Ops Attenzione che qua Abbiamo visto un altro car armato Vediamo se riusciamo a farlo cadere No No Ah Bastardo Abbiamo fatto anche il pieno Aspetta Non so Che è sta palla Che ci blocca Aspetta Ah Bastardo Ah Ma ha preso Non mi ha preso Ah ma se Ma dai Eh dai Che ti Frantuniamo Ops Attenzione Questo è cattivo Che culo Meno male Siamo riusciti ad ammazzarlo Andiamo avanti Ops Attenzione Abba Tanto tu fai una brutta fine Aspetta Aspetta Eccolo qua Facciamo il pieno Pieno Ok pieno Aspetta Perfetto Che c'è qua Qua sono noccioline Vabbè Stemperiamo Ok Stemperiamo Tutta la nostra Andiamo da quest'altra parte Carico di acqua Ok Boom Perfetto Ok Abbiamo Astenzione Che questi Sono cattivi Aspetta Eccolo qua Ce l'abbiamo Un altro Piano piano Ok E via col terzo Prendiamoci Queste noccioline Che ci possono Servire Ok Su 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 Attenzione Lì c'è qualcosa Che ci lancia No eh Ops Questo è cattivo Oh Ancora non sei morto Eccoti qua Contentato Anche te Ma si si Tanto fai una brutta fine Ok Vediamo un pochettino Se Facciamo Il pieno Ok Abbiamo caricato La proboscide Qui Ok Andiamo di qua Vediamo se c'è Qualche cosa Che ci può interessare Si Ok In corsa Speriamo di non Beccare qualcosa Attenzione Piano piano Questi sono cattivi Ecco qua Perfetto Attenzione Perfetto Dai Salta Forza Che ce la fai No Non ho sbagliato Ok Quindi A sto punto Vediamo se riusciamo Di nuovo a caricare La proboscide Perché obiettivamente Abbiamo visto che Ecco qua L'acqua Ci serve E come Ok Di qua che c'è Non c'è niente Ok Perfetto Una fantastica Nocciolina Gigante Ok Da questa parte Aspetta Magari Cerchiamo di salvare Perfetto Aspetta 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 Ups Bellissimo Che culo Da qua c'è Qualc'altra cosa Vediamo se c'è Qualc'altra cosa Di qua Si Che culo Ce l'abbiamo fatta Attenzione Che questo La vedo Difficile Attenzione Ok Ce l'abbiamo fatta Attenzione Piano 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 Ok E abbiamo salvato anche lui Perfetto Quindi riprendiamo La solita nostra Ricorsa Salto Con l'asta Ok Carico And now Attenzione Attenzione Che qua La vedo male Attenzione Che palle Allora io farei Anche un bel carico Di nuovo Di acqua Perché Ne sento L'esigenza Attenzione Te ti ammazzo Così Ok Perfetto Carico di nuovo Di qua Vediamo qui Che c'è Ups Attenzione Qua ce ne stanno Parecchie Tec Attenzione Ah Ok Perfetto Salvato Bravi ragazzi Fate bravi Perfetto Morite tranquillamente Senza dare noia Ok Ok Qui se non mi sbaglio C'era Acqua e tutto No Aspetta Perfetto Oh Qui c'è uno Che sta morendo Dov'è che sono andato Aspetta Aspetta Qua c'è qualcosa Oh ma Che culo Ah Che culo Avete Avete visto Piano piano Con un po' Di fortuna Siamo riusciti Ok Ci conviene Sempre fare Il ricarico Anche se forse Era meglio Non farlo Ricarico Perchè ci dobbiamo Perchè ci dobbiamo Rifare Il percorso Di prima Aspetta Aspetta Ok Perfetto Cannone Ok Ok E now Dove andiamo Ok Vabbè Qua facciamo Il carico Spegniamo Un po' Ok Però io Rifarei Il carico Ok Perfetto Dai 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 Ok Salvo Rinuovo Il carico Ops Attenzione Oh Ok Facciamo il ricarico Mi sa che c'è qualcuno Che ci vuole male Aspetta 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 Siamo morti Che Palle Dai che Non molliamo Dai che Non molliamo Intanto Siamo Allo stesso Punto Di prima Ma Siamo Più Forti Recuperiamo Sempre Un pochettino Ok Stemperiamo Tutto Qua ci buttiamo Aspetta Ops Eeeh Non ti preoccupare Ah no Ah come prima Prima non mi eri passato Attenzione Attenzione Eeeh 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 Sei morto Eeeh Sei cadavere Attenzione Vi facciamo Sempre La nostra Solita Ricarica Di acqua Che ci può Sempre servire Da qua Cos'è che c'è Uuuuh Che è sta Qua Ups Ok Perfetto Salvato Anche lui Non ci fidiamo Mi sa di nuovo Ste fiamme Dannate Dai Bravo Aspetta che qua Mi sa che c'era qualcosa Da ricaricare Non c'è niente Ok Andiamo avanti Cos'è qua Ups Ok Ci tuffiamo Nella mischia Vai Sì Oh Oh Attenzione che questi Ce n'era un altro No L'abbiamo fatto fuori Sì L'abbiamo fatto fuori No Sì Ok Aspetta Oh Ce n'era un altro Lassupra Perfetto Salvato Ne resta soltanto uno Attenzione 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 Aspetta Questi mica ci fanno Del male No No Ho sbagliato Ho sbagliato Riproviamo Che dobbiamo stare attenti Che ne dobbiamo salvare Ancora Ma E che Palle Sembra facile Ma Invece Oddio Dai Aspetta Aspetta Ma non ce l'hai fatta No Ma perché Non vuoi saltare Dai Ce la fai Dai che 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 ce la fai Non ce la facciamo Ma perché Ci dobbiamo riuscire Ci dobbiamo riuscire Aspetta Aspetta Ora Ah Porca Attenzione Qua la vedo dura La vedo dura Ok Ok Ci siamo riusciti Attenzione Che dobbiamo sempre salvarne un altro E qua non ci sta niente Aspetta Facciamo così Ok Che c'è qua Qua che c'è No Ah Ce n'era un altro lì Ok Con cautela Con cautela Dai che ce la facciamo Ok Perfetto Perfetto Rompiamo tutto E dirigiamoci Verso la parte bassa Ok Ok Aspetta Se ci usciamo Ok Salvati tutti Salvati tutti Ok Quest'altra parte Aspetta Ma come si sale qua No Ma non dobbiamo Oh ecco Ragazzi Siete tutti nascosti Ma tutti morti Eh Aspetta che là Ci sta Qualc'altra cosa Che dobbiamo comunque farci Ok Quindi Riseguiamo Il percorso di prima Vediamo Di non morire Di fare Brutta figura Ma dai Ma dai Non abbiamo ammazzato Quell'altro Aspetta Ma che sembra Sembra fatto apposto Vabbè Non fa niente È a destino Che dovevamo Becchiare Qua Che c'è Ah no Aspetta Questi Li possiamo ammazzare Perfetto Quindi Giù per il tubo Ah È utile Che scappate Vi ammazzo tutti Attenzione Un po' di acqua Un po' d'acqua Ok E quindi Possiamo cantare Vittoria Siamo riusciti A arrivare Alla fine Li abbiamo ammazzati Tutti E li abbiamo salvati Tutti 10 su 10 Eccoli là Tutti salvati 254 su 254 Siamo andati lenti Però piano piano Siamo riusciti A completare Anche quest'altro livello Ok ragazzi Come vedete Siamo riusciti A completare Tutti 254 uccisi E 10 su 10 Siamo troppo forti Troppo grandi E quindi possiamo accedere Al 4 livello Sempre in Zona 1 Naturalmente Questo video Termina qui Spero come sempre Che vi sia piaciuto Non dimenticate di commentare Non dimenticate di mettere Mi piace Noi ci vediamo sempre al prossimo video E bye bye